Eccoci qui come è stato, un saluto a tutti ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi qui sotto, a lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale personale, ci tengo, siamo quasi 20.000, grazie per chi si iscriverà, qui sotto c'è il link, parliamo di tutto in particolare di Milano e quindi grazie. Grazie, seguiteci su Instagram per promuovere un'idea, un prodotto, un'azienda, un marchio, una pagina, mandate una mail a milanellolive.com, io di sera ero arrivati in tantissimi a seguire, ne ho parlato stamattina, la diretta sul canale di Rinaldo Morelli, con l'amico Enrico Silvestrin, Enrico voglio vedere se è vero che segui tutti i miei video, quindi adesso ti chiedo, se mi stai seguendo in questo video, mandami un whatsapp e mi dici, sì, anche stavolta ti sto seguendo, così facciamo un test. Non avvisatelo voi, iscrivetevi anche al suo canale YouTube dedicato alla musica, top, top, top. È stata una bella serata e una bella diretta in cui abbiamo approfondito il tema arabo, che poi ho approfondito anche questa mattina, in tanti mi state scrivendo, ragazzi, che adesso ne parlano anche altri che prima negavano, adesso sembra che sanno tutto e raccontano quello che noi andiamo raccontando da mesi, che però etichettavano come bufale fake news. È tutto molto bello e divertente, sappiate che io leggo, ogni tanto metto like e guardo tutto, però ecco, voi traete le vostre conclusioni, ecco, quindi fate le vostre scelte per bene, mi raccomando, e ricordatevi, chi vi ha raccontato tutto in tempi non sospetti e chi negava tutto, sempre. Detto questo, dai, voltiamo pagina, niente polemica, volemossi bene, anche perché voglio partire con una bella storia. Poi veniamo alla novità su Pioli, una positiva, una che a me non piace proprio, e poi anche un tema che sta diventando sempre più caldo, una notizia anche questa non esattamente esaltante, con un aggiornamento anche che riguarda la rabbia. Partiamo subito intanto con una bella giornata, una bellissima giornata che ieri uno di noi, un rossonero doc, ha passato a Milanello. Magari l'avete letta su qualche sito, però volevo dedicarci un minuto e mezzo, due, perché ne vale davvero la pena. L'amico è Stefano di Verbagna, Stefano Rossonero, così sui social, che è un tifoso doc, un milanista pazzesco, che sa tutto del presente e del passato, un milanista che ha nel Milan un punto fondamentale della sua vita, no? E lui da qualche anno sta condividendo sui social purtroppo la sua battaglia rispetto a un brutto male, una battaglia che lui combatte con estrema forza, con estrema volontà, dando un esempio incredibile a tutti. Una battaglia che lui sta proseguendo con, credo, risultati positivi e che ci racconta con trasparenza, dando di fatto un messaggio di speranza un po' per tutti, di forza, di forza di volontà che è incredibile. Lui è una delle persone che più stimo perché davvero dà un esempio pazzesco. Se non lo seguite, seguitelo, perché, ecco, possiamo a volte magari arrabbiarci per le cose che sono anche banali. Lui ci fa capire le cose che serie sono altre, ciò nonostante lo spirito per lui non manca mai e, ripeto, è un esempio di volontà incredibile. Ieri è stato ospitato dal Milan e Stefano Pioli, da quello che ho capito, è stato uno dei principali promotori di questa bella giornata. Ha pubblicato le varie foto, che ora vi mostro qualcuna, insomma, ringraziando poi il Milan, dicendo oggi sono su una nuvola e non scendo più, con i quali rossoneri. Stefano Pioli e Stefano di Verbagna, da Verbagna, Stefano Rossonero, che ha passato questa giornata, seppur piovosa, qui lo vediamo nello spogliatoio con Teo Hernandez, qui lo vediamo con Olivier Giroud, insomma, ha immortalato un po' il tutto. Per me c'è tanta felicità, sapendo che lui ieri ha passato questa bella giornata, te la meriti, caro Stefano, centomila di queste altre giornate, continua così e ci dà un esempio incredibile. Ci conosciamo virtualmente, ma io ti ritengo un amico, o meglio, un fratello rosso-nero, e quindi, grande, 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 sei troppo forte, davvero. Ora voltiamo pagina, ma restiamo sempre sul tema Pioli e poi andiamo su un'altra notizia. Sul tema Pioli, due notizie. Allora, la prima è quella che sta un po' circolando, che è stata scritta anche da Tutto Sport, correggetemi se sbaglio, secondo cui il Milan ha posto tre obiettivi per permettere a Pioli di rimanere, per garantire una permanenza di Pioli. Tre obiettivi che sono qualificazione Champions, scudetto, eh sì, scudetto magari, vittoria del derby e almeno la semifinale di Europa League. Questi tre obiettivi. Io dico che non esiste. Cioè, qualificazione in Champions, ci mancherebbe altro che non ti qualifichi in Champions. Vincere il derby è una partita. Dico, è vero che poi interromperemmo la striscia negativa, che non se ne può più, però è una partita. Non è che dice, hai vinto il derby, ha merito di restare. Dove, altrove, condizionano a una partita, magari la permanenza di un allenatore. Dall'altra parte, arrivare almeno in semifinale di Europa League, anche qui mi sembra al minimo. Nel senso che, abbiamo detto tutti, adesso sei agli ottavi. Se lo sbaglio a Praga lo devi battere, ci mancherebbe altro, ma nulla è scontato. Se lo batti sei quarti, hai superiore Liverpool, come stoffa, per dire alla Berlusconi, e come squadra, come concetto di squadra, l'espressione di squadra, c'è il Bayern-Reverkusen. Ma le altre? Cioè, non è che arrivi in semifinale, ah bene, allora resta. Secondo me non esiste questa cosa qui. Io spero tanto che sia un tentativo del club di far filtrare certe notizie per stimolare un po' le motivazioni, per dare comunque al gruppo un messaggio per cui potrebbe restare anche Pioli. Spero che questa sia la lettura. Diversamente, ecco, sarei molto perplesso di una permanenza legata a questi tre obiettivi. Io forse sono estremista dall'altra parte. Io ritengo che anche se vince l'Europa League non devi continuare. Perché vincere l'Europa League magari significa aver battuto... Magari manco le becchi Liverpool e l'Everkusen perché si scontrano tra di loro, ne incontri una sola e vinci. Ottimo! Ma non dimentico, 35 infortuni a oggi, l'eliminazione in Champions, il fatto che siamo fuori dal campionato da novembre, lo scorso anno siamo arrivati i quinti, delle scelte sbagliate, un equilibrio che manca, un'infinità di gol subiti. Quindi mi sembra follia, sinceramente. Spero che la lettura sia quella che ho proposto prima. Dopodiché leggerò i vostri commenti. Se qualcuno mi dice no, se fa queste cose qui è giusto che resti, ne prendo atto. Non condivido, ma rispetto, come sempre, il parere di tutti. L'altra indiscrezione, invece, arriva da Napoli, su Pioli. Ne avevamo raccontato, credo, 4-5 settimane fa, del fatto che De Laurentiis stesse iniziando a monitorare la situazione di Pioli. Parallelamente anche alle difficoltà che aveva il Milan e alle voci di separazione. Il mattino, che interviene Napoli assolutamente autorevolissimo, scriveva oggi che il sogno resta a Conte, ma ritengono che sia difficilmente realizzabile. Poi c'è Italiano, ma in pole position, nelle ultime settimane, è balzato Stefano Pioli. Quindi, sapevamo anche di contatti, credo che, ragionandissima voce alta, probabilmente l'entourage di Pioli ha fatto sapere che, in caso di separazione da Al Mina, lui andrebbe volentieri a Napoli. Che, tra l'altro, è un club che ha gli allenatori, non dà ingaggi bassi, quindi potrebbe magari andare a percepire di più rispetto ai 4 milioni e mezzo di euro che percepisce al Milan e che il Milan risparmierebbe all'ordo, quindi, 9 milioni in caso di approdo di Pioli a Napoli. Questo mi sembra, ecco, un possibile epilogo che accontenta tutti, anche perché il Milan risparmierebbe 9 milioni di euro. Su Conte, ribadiamo, Conte è ancora lì. Non è andato nel Milan, non è andato al Barcellona, non è andato al Bayern Monaco, però è ancora lì, e spero tanto che l'accordo con Ibra, del quale ci raccontava Luca Moulano al 100%, possa poi avere la meglio su tutto il resto, su tutte le altre possibili operazioni. Quindi, ditemi che ne pensate anche sul tema Pioli, appunto. Poi, un altro capitolo, quello legato a Teo Hernandez. Sono un po' raffreddato, chiedo scusa, eh. Quello su Teo Hernandez è un capitolo dedicato a essere, a diventare poi una telenovela. Intanto, ecco, ne parlavamo nei video di ieri, Milan lo valuta molto. Cosa succede? Cosa sta succedendo? Che c'è, intanto, una notizia. Il Milan non lo toglie dal mercato. Il Milan fa sapere che il prezzo è 100. Quindi non lo dichiara incedibile, ma gli appiccica addosso il prezzo, 100 milioni di euro, che sono tanti. Dall'altra parte, succede che il suo entourage ha avuto contatti con il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco lo vuole per sostituire Alfonso Davis, che dovrebbe andare a Real Madrid in estate, senza perderlo poi l'anno dopo, quando scadrà nel 2025, parametro zero. Succede che, purtroppo, la notizia è che a oggi, 28 febbraio, tra il Milan, quindi Furlani, in questo caso, Moncada, e l'entourage di Teo Hernandez, non ci sono stati contatti, nemmeno esplorativi, sul discorso rinnovo di contratto. Lui prende 5 milioni di euro. Non c'è stata una telefonata, non c'è stato all'inizio di una trattativa, non c'è stato nulla. E questo magari spiega un po' anche quella flessione di quel periodo di Teo Hernandez, che magari si era un po' intristito, sapendo che, insomma, parlano con Mignane e con me non parlano. Anche perché Mignane e Teo hanno la stessa scadenza, 2026. E nel calcio, 2026, non è così lontano quando sei a febbraio, ormai marzo, 2024. Sono due anni e quattro mesi, anzi, due anni e tre mesi, no, due anni e quattro mesi, marzo, aprile, maggio, giugno. Però sai che una volta che entri nell'ultimo anno non rinnovi più, quindi è un anno e quattro mesi sostanzialmente, e non è tanto. Tu devi arrivare a rinnovare diciamo un anno e sei, sette mesi, perché poi puoi rinnovare entro anche agosto, settembre, qualcosa di più. È poco, è poco. Ed è il classico silenzio assordante, un silenzio che ci dice che oggi la priorità del Milan non è rinnovare Teo Hernandez. Mi dispiace, dall'altro però non mi stupisce, perché o lui prende cinque, se tu gliene vuoi dare sei, o lui te ne chiede magari sei, per Daniel 6 devi dargli dodici, quando oggi fino al 30 giù 2026 Daniel 5 ti costa setto otto, quindi la differenza è di quattro milioni a stagione. Capiamo perché il rinnovo non arriva e non hanno neanche iniziato. Più vanno avanti è meglio è, però più va avanti più c'è il rischio di perderlo. Dicevamo del Bayern Monaco, anche se da quello che risulta la sua famiglia vorrebbe stare a Milano, lui sta bene a Milano, la compagna sta bene a Milano, la compagna è di Milano, comunque in zone Lombardia, e non ha intenzione di andare via anche delle sue attività, in generale vorrebbe restare qui, però è chiaro che bisogna fare i conti con anche le leggi e le offerte del calciomercato, su di lui, ripeto, c'è il Bayern Monaco, che cambierà diverse cose in estate, anche allenatore, c'è anche interesse nei confronti del giocatore da parte della Premier League e ricordiamo che il nostro giocatore ha 26 anni, quest'anno ha fatto 4 gole e 3 assist in Serie A e ha fatto anche un assist in Champions, 2 assist in Europa League, 3 assist in Coppa Italia, quindi stagione da 4 gole e 9 assist. C'è però, chiedo scusa, anche l'Arabia Saudita su Teo Hernandez, il che significa che potrebbe arrivare un'offerta magari anche clamorosa, superiore ai 100 milioni, è vero che loro sono abituati a prendere magari giocatori senza spendere così tanto per i cartelli di media 20, magari giocatori a scadenza o vicino a scadenza, però per Teo il prezzo è 100 e se dall'altra parte magari arriva anche l'Arabia Saudita e lui va a prendere una vagonata di soldi, almeno a quel punto i 100 milioni di euro potrebbero anche non bastare più. però troviamo lo solito punto, Milan deve aggiungere giocatori, nella live ieri con Rinaldo ed Enrico dicevo i milanisti non si devono appiattire alla mediocrità, devono essere ambiziosi. Purtroppo siamo costretti a parlare di possibili sacrifici ogni anno, quest'anno forse anche più di uno vedendo le situazioni contrattuali e l'interesse anche sulle A.O e sinceramente questa cosa mi dà fastidio. spero che in Arabia Saudita non arrivi un'offerta per Teo ma arrivi l'offerta per Cardinale e che la cosa possa svilupparsi positivamente. Di questo ho parlato nel video di questa mattina e ripeto diffidate dalle imitazioni. Sul tema quantomeno diffidate dalle imitazioni e ci vediamo presto. Mi raccomando commentate numerosi lasciate un like iscrivetevi da questa parte ancora un abbraccio a Stefano e seguitelo sui social mi raccomando e vi chiedo un piacere se vi va un regalo iscrivetevi al mio canale personale vi metto qui sotto il link va bene un abbraccio a tutti forza a Milano oggi più che mai domani ancora di più ciao a tutti ragazzi ci vediamo più tardi ci coinvolgerò nel video Fabrizio della Giustina su tanti temi e quindi un ping pong da non perdere più tardi qui su Milanello ora al video di questa mattina ciao ragazzi